Questo si può dire che è il Tempio dell'Abruzzo perché in esposizione c'è tutto quello che è creato artigianalmente, ci sono già i visitatori che dalle prime ore chiedono, guardano, si informano, il programma dell'Abruzzo è molto ricco dei laboratori, si parlerà dell'olio, si parlerà anche dei prodotti tipici ed è solo la prima giornata. Qual è l'ambizione in questi cinque giorni? L'ambizione nostra è quella di far conoscere le qualità territoriali, i prodotti tipici della nostra regione, le tradizioni, tutto ciò che può essere legato al mondo del turismo ma anche tutto ciò che è legato all'attività artigianale di qualità della nostra terra. Questa è la nostra ambizione, sono certo che dopo questa iniziativa in questi cinque giorni avremo un numero notevole di presenze, va detto che qui abbiamo avuto un'accoglienza anche da parte delle istituzioni, non solo il Presidente della Camera di Commercio e tutta la Camera di Commercio ma anche la Regione Friuli Venezia Giulia, Giulia, la provincia di Trieste e il Comune di Trieste ci hanno accolto con grande interesse perché hanno la voglia di condividere con noi dei progetti comuni per realizzare uno sviluppo di regioni che cosiddette più piccole dal punto di vista degli abitanti e del territorio. Ci abbiamo investito sulla volontà di tante persone che investono a proprio rischio e pericoli, costi di un'iniziativa di questo tipo e sono certo che questo tipo di impegno avrà più entusiasmo e trasporterà molto più interesse in termini di rapporti con i cittadini che verranno a visitare i nostri stand.